Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretterò da mano materna a guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio, che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esso. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Vieni divina volontà Vieni divina volontà Riordina in me il tuo volere divina volontà Vieni 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 divina volontà dal libro di cielo volume 11 capitolo 59 3 settembre 1913 mentre stavo pregando ma io non so spiegarmi bene può essere pure una mia fina superbia non ci penso mai a me stessa alle mie grandi miserie ma sempre per riparare per consolare gesù per i peccatori per tutti ma non che ci penso prima no solo basta mettermi a pregare e mi trovo in quel punto ora io stavo in pensiero di ciò ed il mio sempre amabile gesù venendo mi ha detto figlia mia come ti dai pensiero per questo tu devi sapere che quando io metto l'anima nella mia volontà e lei fa stabile soggiorno al mio volere essendo che la mia volontà contiene tutti i beni possibili e immaginabili perciò l'anima si sente che abbonda di tutto e si mette nelle mie stesse condizioni cioè che sente necessità di dare anziché ricevere si sente che lei di nulla ha bisogno e se vuole prendere ciò che vuole non chiedere e siccome la mia volontà contiene una forza irresistibile di voler dare allora è contenta quando da e mentre da resta più assetata di dare ed anche strette si trova quando vuol dare e non trova a chi dare figlia l'anima che fa la mia volontà la metto nelle mie stesse condizioni e da parte delle mie grandi gioie ed amarezze e tutto il suo operato è suggellato col disinteresse di se stessa ah sì chi fa il mio volere è il vero sole che dà luce e calore a tutti e si sente la necessità di dare luce e calore e mentre dà a tutti il sole non prende nulla da nessuno perché lui è superiore a tutto e non c'è sulla terra chi può eguagliarlo nella luce e nel gran fuoco che contiene ah se potessero vedere un'anima che fa la mia volontà la vedrebbero più che sole maestoso in atto di far bene a tutti e quel che più scorgerebbero in questo solo me stesso sicché il segno che l'anima è giunta a fare la mia volontà e che si sente in condizioni di dare hai capito capitolo 66 settembre 1913 stavo pensando alle ore della passione scritte e come sono senza indulgenza e quindi chi le fa non guadagna mentre ci sono tante preghiere arricchite di tante indulgenze mentre ciò pensavo il mio sempre amabile Gesù tutto benignità mi ha detto figlia mia con le preghiere indulgenziate si guadagna qualche cosa invece le ore della mia passione che sono le stesse mie preghiere le mie riparazioni e tutto amore sono proprio uscite dal fondo del mio cuore tu hai forse dimenticato quante volte mi sono unite unito con te per farle insieme ed ho cambiato i flagelli in grazia su tutta la terra quindi è tale tanto il mio compiacimento che invece dell'indulgenza do una manata d'amore che contiene prezzi incalcolabili di infinito valore e poi quando le cose sono fatte per pur amore il mio amore vi trova lo sfogo e non è indifferente che la creatura dà sollievo e sfogo all'amore del creatore capitolo 61 12 settembre 1913 stavo pensando come Gesù benedetto ha cambiato le cose anche venendo non mi resto impietrita come prima ma appena se ne va mi sento allo stato naturale io non so che mi è successo e quel che più mi sento infastidita se mi viene il pensiero oppure se chi ha autorità su di me volesse conoscere le cose mie onde il buon Gesù che mi vigila ogni pensiero e neppure uno ne vuole che nella mia mente discordasse nel venire mi ha detto figlia mia vorresti tu forse che io usassi funi e catene per tenerti legata un tempo erano necessarie ed io con tutto amore ti tenevo a vinta e facevo il sordo a qualche tuo lamento ricordati ma ormai non le vedo più necessarie se sono sono più di due anni che con te voglio usare catene più nobili qual è la mia volontà e perciò in questo tempo ti ho parlato sempre del mio volere e degli effetti sublimi di inescrivibili che questo che detto volere contiene cosa che a nessuno finora ho manifestato guarda quanti libri vuoi e vedrai che in nessuno troverai quello che ho detto a te della mia volontà ciò era necessario per disporre l'anima tua allo stato presente in cui ti trovi dopo averti tenuto sempre con me lo sapevo benissimo che non avresti potuto durarla a soffrire la mancanza della mia presenza continua e se non avessi sostituito una cosa mia stessa che invadendo di tutta l'anima doveva tenerti rapita più che non facesse la stessa mia presenza sostituendosi la mia volontà a tenerti rapito ogni tuo pensiero affetto desiderio parola tanto che la tua lingua parla della mia volontà con tale eloquenza di entusiasmo perché è rapita dal mio volere perciò tu senti fastidio quando sei interrogata e come perché gesù non viene come prima perché si è rapita dalla mia volontà e l'anima tua soffre quando ti vogliono rompere il dolce incanto del mio volere ed io gesù che dici vattene vattene sono le mie cattiverie che mi hanno ridotto in questo stato gesù ha sorriso nel sentirsi dire vattene stringendomi più assesso giunto non posso andarmene posso forse separarmi dalla mia volontà se tu tieni la mia volontà devo starmi sempre con te il mio volere di io siamo uno solo non siamo due ma andiamo ai fatti dimmi quali sono queste due cattiverie ed io amore mio non lo so tu stesso l'hai detto che la tua volontà mi tiene rapita come posso conoscerle e gesù a non le conosci ed io non posso conoscerle perché tu mi tieni sempre sopra e non mi dai tempo di pensare a me stessa e nell'atto che voglio pensare a me tu ora mi rimproveri severamente fino a dirmi che dovrei vergognarmi di fare ciò ora amorosamente col tirarmi a te con tale forza da farmi dimenticare di me stessa come posso farlo e gesù e se non puoi farlo significa che io mi compiaccio di più che non se tu lo facessi tenendoti la mia volontà in luogo di tutto e vedendosi tolta qualche cosa di suo perché perciò ti sta sopra ti impedisce di pensare a te stessa sapendo che dove tiene in tutto il luogo il mio volere cattivele non ci possono essere perciò geloso mantengo la sentinella ed io gesù mi burli e gesù figlia mia mi costringe a farmi parlare per farti capire le cose come stanno senti per farti giungere ad un punto si nobile divino io ho fatto con te come due amanti che si amano fino alla follia mai tu avresti amato tanto la mia volontà se non mi avessi conosciuto perciò prima ti dato l'estasi della mia umanità affinché conoscendo chi sono tu mi hai amato e per tirarti tutto il tuo amore ho usato con te tanti stratagemmi d'amore tu li ricordi non è necessario che te ne faccia l'elenco ora dopo averti tirato ben bene ad amare la mia persona tu sei stata presa dalla mia volontà e la ami e non potendo stare senza di me dopo tanto tempo come se fossimo vissuto insieme era necessario che l'estasi della mia volontà ti tenesse luogo della mia umanità e tutto ciò che ho fatto prima sono state grazie per disporti all'estasi della mia volontà perché quando io dispongo un'anima a vivere in modo più alto nella mia volontà sono costretto a manifestarmi per infondere grazie così grandi ed io sorpreso ho detto che dici gesù come la tua volontà è estasi sì vera e perfetta estasi al mio volere e allora tu rompi questa estasi quando vuoi pensare a te ma io non te la do vinta quindi nei tempi che volgono grandi castigli verranno sebbene tu non ci credi e li crederai tu e chi ti dirige quando li sentirete perciò è necessario che l'estasi della mia umanità sia interrotta ma non del tutto altrimenti tu mi regresti dappertutto quindi farò sottentrare il dolce incanto del mio volere per farti soffrire anche meno nel vedere i castigli molto profondi gli scritti di oggi che ci fanno anche comprendere bene l'itinerario seguito da gesù nel formare l'anima di luisa e abbiamo anche appunto letto uno dei brani famosi insomma del libro di cielo dove gesù appunto spiega che le informazioni le conoscenze che ha dato sul divin volere attraverso questi scritti nella particolare forma peculiarità e contenuto che essi assumono non si trova altrove a nessuno le manifestati guarda quanti libri vuoi e vedrai che a nessuno troverai quello che ho detto a te della mia volontà e attenzione qui siamo nel 1913 quindi lì luisa ha 48 anni e gesù gli dice sono più di due anni che con te voglio usare catene più nobili quindi ricordiamo insomma i 46 anni di luisa sono l'anno di svolta preceduti da una lunga preparazione spiegato gesù oggi andiamo un pochino non troppo sistematicamente nella nella meditazione nobili preparazione che ha è passata anche attraverso due vicende due diciamo così sì due fenomeni soprannaturali primo le molteplici manifestazioni sensibili dell'umanità di gesù anche con gesti molto forti molto eclatanti che abbiamo visti nei primi dieci volumi secondo quel particolare fenomeno del restare in pietriti che qui sentiamo luisa in questo stato in questo momento della sua vita essere stato sospeso non c'era più e gesù spiega che questo era un percorso pedagogico e questa spiegazione culmina addirittura nella splendida frase no che probabilmente darà il titolo a questa meditazione che l'estasi della divina volontà questa non è un estasi come le estasi straordinarie che hanno appunto ho avuto anche luisa che hanno i mistici che vedono gesù e che hanno cose del tutto peculiari ma è un'estasi assai migliore dove non ci sono ecco strepiti e fenomeni eclatanti da un punto di vista sensibile ma c'è davvero una trasformazione totale dell'anima questa è un po' una sintesi di quanto oggi quindi adesso proviamo andare un po' nei dettagli dei singoli capitoli allora l'unica è la prima cosa molto importante anzi ce ne sono un paio l'anima che fa la divina volontà l'anima che vive nella divina volontà è caratterizzata da due cose non pensa a se stessa non ci pensa proprio e da senza andare a cercare nulla in questo mondo nel primo capitolo questo ha spiegato gesù è una somiglianza divina cioè dio è amore nel senso che dio da e basta certo vuole il ricambio delle nostre creature dell'amore delle delle creature ma il ricambio dell'amore delle delle creature è cosa che dio vuole lo stesso per il nostro bene non perché lui ne abbia bisogno dio è l'essere per antonomasia che non ha bisogno di nulla è proprio una caratteristica dell'essere divino il bastare a se stessi l'essere autosufficiente adesso ovviamente attenzione non interpretare malamente alcuni passaggi no come quando giusù parla della superiorità di chi vive nella divina volontà attenzione a non prendere in maniera molto umana e quindi deviante queste espressioni ad andare ad alimentare ecco assolutamente inopportuni malsani ecco pensieri o sentimenti di superbia il principio però è molto semplice quando si è fusi nel divin volere si partecipa di questa proprietà divina che è il compiacersi nel dare cioè dio è felice nel fare felice e siccome l'anima è già perfettamente felice in dio non sente più il bisogno di andare a cercare la felicità altrove nelle cose umane gli uomini stanno sempre a prendere o a cercare o a succhiare in giro dovunque perché perché hanno dentro il proprio cuore un vuoto di vita l'uomo vuole essere amato vuole ricevere affetto vuole ricevere considerazione vuole ricevere gioia vuole ricevere piaceri ma questo è normale che sia così perché questo attesta indirettamente la nostra origine soprannaturale e anche il nostro destino soprannaturale perché noi siamo stati creati dall'amore per amare e per godere non devono stupirci questi questi termini qual è però il problema che la nostra condizione misera è il fatto che di dio non abbiamo una conoscenza una percezione immediatamente sensibile ma a dio ci si accosta per mezzo della fede ci si accosta per mezzo di altre frequenze rispetto a quelle a cui noi siamo abituati che non sono quelle terra terra sensibili quindi non è accesso immediato dio per noi noi non abbiamo accesso immediato assolutamente e allora che succede? succede nell'uomo che sente questi bisogni e li va a cercare nelle creature nelle cose illecite o anche lecite cerca la vita cerca l'amore cerca la considerazione cerca la la stima cerca l'affetto quanto meno e in questo chiaramente cercare è guidato dal principio dell'egoismo cioè io devo stare bene io sto male io mi sento triste io mi sento depresso io soffro non avendo queste cose quindi le devo trovare e poi ci sono gli atteggiamenti chiaramente degli esseri umani che pretendono dalle altre creature affetto, stima, considerazione guai se non glielo dà in certe circostanze ma qual è l'esito di questo? che si rimane sempre più infelici sempre più delusi sempre più sofferenti perché la vita nelle creature non ci sta le creature non ci ameranno come noi desideriamo essere amati le creature non ci daranno quello che noi ci aspettiamo e neanche noi lo daremo a loro quello che loro si aspettano perché questo è un punto fondamentale non solo della vita nella divina volontà ma questa è della rivelazione come dire ordinaria insomma quindi senza bisogno di fare rivelimento a cose che Gesù non ha mai detto a nessuno come afferma qui cioè la vita viene dal creatore Sant'Agostino scriveva tu ci hai fatto per te e il nostro cuore non trova pace fino a quando non riposa in te quindi se uno continua o uno ci crede a questo quindi cambia rotta e la smette di andare a cercare la vita nelle creature nel mondo e sapendoli dover soffrire un po' perché ci sarà un tempo non è che tu ti accosti dal Signore e immediatamente vivi tutte queste cose dovrai fare un percorso dovrai fare anche il tempo di quaresimo che stiamo vivendo che cosa ci dice che c'è un percorso di avvicinamento a Dio che è graduale il primo passo qual è? il distacco dal mondo ieri ha fatto una bellissima omelia proprio Francesco dove diceva che dobbiamo scegliere se noi vogliamo vogliamo vivere per la cenere o per il fuoco bellissimo questa immagine perché ha decodificato in maniera molto suggestiva la cenere che ci viene posta sulla testa con le realtà effimere di questo mondo che fanno una vampata che ti danno un'illusione e poi rimane un pugno di cenere invece l'amore di Gesù è fuoco vivo che non si consuma mai il roveto ardente di Mosè il fuoco che ardeva non si consumava il fuoco e non consumava il roveto allora se tu vuoi passare la vita e andare presso alle sciocchezze alle chimere alle illusioni di felicità alle creature chiamandolo come ci pare gli idoli è sempre lo stesso giro fallo pure ti troverai continuamente con un pugno di cenere in mano e non ti lamentare poi di questo perché è quello che hai voluto tu perché questo troverai se invece ecco l'aiuto che ci dà anche la liturgia della chiesa ti sei stufato e vuoi cambiare rotta bene comincia a lasciare perdere i pugni di cenere in cui sei vissuto e comincia a cercare il fuoco non lo trovi dall'oggi al domani devi fare un percorso ecco anche il percorso l'itinerario penitenziale quaresimale che deve portarci rinnovati alla festa di Pasqua che è un po' la sintesi del mai interrotto itinerario che noi dobbiamo fare perché la nostra vita è fatta così è un sempre maggiore distacco dalle cose di questo mondo specie per chi cerca di vivere nella divina volontà per raggiungere una sempre più grande unione e fusione con Dio e con il suo volere è chiaro che la fase purificativa che è appunto quella esemplificata dal percorso penitenziale è una fase dolorosa è una fase dove tu soffri perché c'è la privazione e non vedi ancora i benefici capito ci sono delle cose che non ci stanno più e ancora non sei giunto a Pasqua cioè all'unione con Dio ma questo fa parte delle regole del gioco funziona così se tu non vuoi se tu vorresti che dall'oggi al domani se tu volessi che dall'oggi al domani tu lasci il muo e immediatamente Dio ti ammette la sua presenza e ti fa vivere le esperienze mistiche di Luisa per dire e te lo scordi proprio non so se succede così normalmente c'è un percorso da fare un percorso da fare che si fa sulla base di una scelta di fede dove voglio orientare la mia vita ecco perché Gesù dice qual è il segno che l'anima sta nella mia volontà se si sente in condizione di dare cioè se ha smesso di andare a cercare a prendere tutto a prendere a succhiare dal prossimo a prendere considerazione affetto stima amore e tutto cioè in stato di perpetuo ecco succhiamento da tutto senso di sicurezza dai soldi piacere dai beni sensibili affetto dalle creature stima considerazione tutto quello che noi vogliamo quando tu hai conosciuto Dio non ti interessano più queste cose perché in Dio tutti questi desideri trovano appagamento all'ennesimo livello l'amore lo trovi la stima chi è che ci stima più dell'altissimo che ci può conoscere meglio dell'altissimo la nostra straordinaria dignità l'importanza il valore inestimabile della nostra anima chi ti ama più di quanto ti ama l'altissimo nessuno ma ti devi mettere in condizione di poter vivere questa cosa e tutte e due non si possono avere o vai dalle creature o vai dal creatore questo non ci servono gli scritti di Luisa Piccarreta per affermare questa cosa per questo è stata da sempre insegnata in tutta la spiritualità cattolica in tutta senza nessun tipo di eccezione Gesù fa una piccola parentesi sull'importanza delle ore della passione senza certamente nulla togliere alle preghiere indulgenziate ma queste anche sono una cosa del tutto peculiare così come gli scritti perché le ore della passione non sono solo una meditazione sulla passione come per esempio il primo esercizio della via crucis ma sono Gesù stesso l'ha detto un ripercorrere in quei momenti con lo stesso cuore di Gesù e unendosi alle sue preghiere alle sue riparazioni al suo amore e facendosi presenti attuali ad essi con la nostra povera piccola persona con il nostro povero piccolo amore per quanto possibile per fare compagnia riparare amare Gesù per noi e per tutti è un giro nel fiat redimente l'ora della passione è qualcosa di più di più completo rispetto a una semplice meditazione e quindi anche se non c'è l'indulgenza c'è però un grandissimo atto di amore nei confronti di Gesù e Gesù stesso dice non è indifferente che la creatura dia sollievo e sfogo all'amore del creatore abbiamo già accennato questa estasi della divina volontà Gesù spiega cosa ha fatto con Luisa diamone il dettaglio cosa fa anche con le anime nostre la prima cosa che fa ci innamora ci alletta quindi i primi passi di un cammino di come dire di santificazione seria consistono in questo un po' come il libro del profeta Osea la prenderò la porterò nel deserto e la fidanzerò al mio cuore è un momento molto bello quando l'anima si decide a darsi al Signore perché il Signore dice ah ti sei deciso bene adesso ti faccio vedere in prequel ovviamente in forma proporzionata non è necessario che accadano cose straordinarie però ti faccio vedere in prequel quanto è bello vivere con me e magari in qualche momento ti do qualche piccolo aiutino nel senso che ti preservo dato che sei ancora debole dal pericolo di interrompere subito il cammino diciamo che questo è un po' l'intorpidimento insomma quando Gesù parla delle catene e delle funi che usava con Luisa questo viene fatto per un pochino di tempo fino a quando fino a quando ormai l'anima ha capito che vale la pena e non c'è nessuna intenzione di smettere il cammino né di tornare da quel punto si passa ad un altro step c'è un momento in cui viene massimamente valorizzata la libertà della creatura non ci sono più catene sei tu che decidi giorno dopo giorno e cresci giorno dopo giorno nella vita di unione con me non perché nessuno ti costringe o ti neanche ti non dico di forza ma neanche ti spinge ma perché lo vuoi tu e lo rinnovi ogni giorno questo tuo volere quindi c'è questa valorizzazione e c'è anche un calo delle consolazioni sensibili perché l'anima si nutre del cibo solido del divino volere questo è accennato anche nelle lettere di San Paolo dice quando eravate bambini vi ho nutrito con il latte spirituale ecco ma adesso che siete grandi avete bisogno di un alimento solido un bambino gode certamente non stare attaccato al seno della mamma e succhiare il latte per carità è una fase dell'esistenza ma quando si diventa grandi si vive di cibi solidi qual è il cibo solido? la divina volontà e quest'estasi diciamo così non mistica perché è un'estasi ordinarissima consiste che non esiste più nulla di quello che facciamo di quello che pensiamo di quello che desideriamo che non sia unito al divino volere questo non determina si badi nell'immediato nell'istante immediato grandi godimenti come quando ti appare Gesù e ti dà una carezza insomma per fare un esempio però produce una una tale contentezza globale interiore una tale serenità interiore una tale mole di bene che anzitutto ritonda nell'anima che la vive ma certamente poi abbiamo sentito fuoriesce fuori di sé facendo un bene immenso a tutti che non c'è nulla che ad essa sia paragonabile Gesù dice ti impedisce questo stato addirittura di pensare a te stesso si esce da questo stato quando si ricomincia a pensare a se stessi noi stessi in una fase diciamo matura non ci pensiamo proprio più né in bene né in male si pensa a Gesù e al suo volere e basta si campa molto meglio non ci sono preoccupazioni di questo Gesù accenna qualcosa nei Vangeli non datevi pensiero per la vostra vita di quello che mangerete di quello che pensate non vi preoccupate di tutte e tutte queste cose quindi cessa questo stato non mi sto più a preoccupare di come sto se sto bene se sto male perché non è più un problema sto semplicemente in atto di vivere coscientemente o inconscientemente quindi anche negli atti non direttamente volontari quello che Dio vuole al massimo grado possibile e basta questo stato è uno stato stupendo superiore questo dobbiamo mettercelo bene in testa anche a quelli che in forma straordinaria Luisa ha vissuto prima di trovarsi in questo stato qui dobbiamo un po' come quando avrebbe detto una madonna in le apparizioni di Meggiugore lo ricordo molto bene avrebbe sempre per rispetto al fatto che ancora non c'è un riconoscimento ufficiale ma questa frase è la stessa cosa che è analogo a quella che Gesù ha detto qui fare la comunione è più che essere veggenti se ti appaio io e c'è la messa lasciami perdere e ve la messa per fare la comunione cioè la massima forma di comunicazione è ordinaria anche perché lo straordinario non si vede nella messa che è quella appunto sacramentale è più che vedere la madonna e parlare a faccia a faccia con lei le apparizioni di Meggiugore potranno anche non essere riconosciute dalla chiesa facciamo queste ipotesi mi avviso molto remota però se dovesse essere non c'è problema ma sicuramente questa frase è vera quindi anche se non c'è proprio nessunissimo dubbio cioè che fare la comunione più che essere veggenti qualora uno lo fosse e così vivere nella divina volontà stare in questa estasi della divina volontà un'estasi che appunto si chiama così semplicemente perché? perché ti fa vivere fuori di te l'estasi è un fenomeno in cui tu vieni tirato fuori di te e pensi ad altro perché stai concentrato nell'oggetto dell'estasi nell'umanità di nostro signore nella madonna nella visione intellettuale immaginaria eccetera fuso con la divina volontà tu non ti preoccupi più di te non pensi più a te ma stai appunto in questo stato estatico capito? cioè stai vivi estroverso a pensare a cosa? alla divina volontà e come Gesù ci ha accennato nel primo capitolo a fare del bene agli altri e basta a dare non a prendere e questa è veramente una vita bellissima divina e di cielo ecco la Santa Vergine Maria Gesù ci ha mostrato ecco il tuo stato abituale con la vita terrena che era questa estasi della divina volontà a cui poi tra l'altro certamente ci univano tante estasi per te di altro genere insomma ecco ma in questo ecco col tuo aiuto possiamo piano piano diventarti simili e tu stessa ci diresti che questa è la cosa assai più importante nell'altro mondo quando saremmo passati a miglior vita staremo in eternità vissuti in estasi di ogni genere in godimento di ogni genere insomma quindi non è questo un problema è solo questione di tempo ecco invece se viviamo in questo modo qui quello che poi vivremo di là sarà enormemente ecco grande e il signore non mancherà di farsi conoscere manifestare come vuole se vuole nella misura in cui la sua volontà lo ridiene opportuno anche in questa vita mortale nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave pari